Bella ragazzi, carichi come non mai da FuseGamer, oggi ragazzi sono solo, tra poco arriveranno tutti Dai oggi Fiorentina-Napoli, speriamo di vincere al franche Tre punti fondamentali, sarebbero il top Dai, dai, dai Vai, 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 vai Chi è visto il mio ringazzo, sta buona Ma giallo subito Dai, dai Ma no, nel senso 45 secondi non può ammonire Chiama, è un fallo così, capì? 100, solamente spagnolo No, no, perché l'ha dato Non è giallo così da Manca un fallo da Dio Allora, un fallo è giallo, scusa eh Oh, fallo E pur chissà è giallo, scusa eh Sì, perché non è giallo? Tu vai, tu vai Ma che cazzo di Maronna Non puoi mettere una partita così Ah, tu hai fallo da mezzo Tu sai, ti viste, ti viste Ti viste, ti viste, ti viste, ti viste, ti viste Ma ha parato Ma è stato, ma è stato messo la mano, no? No, ti viste, ma è stato messo la mano, no? Spitalo, spitalo Oddio Non sei un vero diposto del Napoli Sì 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 Ok, va bene, non lo poteva dare Guarda che io Sì Si 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 contro uno e si chiama Pianchiesa ma non è è è è è è è è finalmente 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 è è pg pg fa fuori dai pali come lo piglio il suo calcio come ma chi lo criticava e canna nutira in attasino di raggi del suo aglio amore fatta bella cosa ai butta di buttati o già non ci creda in corso di campo aperto lavoroso questo andato inizioni quasi a questa lavata è pazzesco e mezzo in mezzo la mia rischi 6 che parola la situazione perché non ha tirato la situazione a tirare tenis ma chiama che la sua bra giallo sotto la doccia non ci credo ma non l'ha toccato non l'ha toccato poi era rosso io in simulazione giudice di morta giudice di morta giudice di morta non è andato in ricordo l'ha andato giallo per proteste la protesta di Reina e chi ta morta ma questo è giallo ma perchè non è giallo che è simulazione ma io non capisco ma che cazzo di arbitri ma torsato ma che arbitri ma che è simulazione giallo e rosso ma ci mostro ma che è albito ma che merda di arbitro ci hanno mannato è regolamento è regolamento dove sta simulazione che era sbagliato dall'inizio ho sbagliato il metodo di giudizio dall'inizio a sbagliare è normale che dopo non ti trovi bene è normale è ovvio è ovvio ciao ciao vai va passimo vincere con troppo profondo ha avuto papinari chissi dove la faccio mi dice di un'ora mi dà morta Mirk raffanculo vincere ti ha cambiato poco sto gol che cazzo di comito toglilo che cazzo di comito te lo metti a fare vai oh vai 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 tira si 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 tutto a due tutto a due tutto a due giustizia divina giustizia divina allora vai questa è l'espulsione è rosso voglio vabbè ma io così ma no ma questa cosa adesso ma siamo inventati tutta la terra vabbè che gollo che ha fatto questo ma no ma perché cazzo di affanculo ma ero frate ma sì cazzo di bello cazzo vai faccio ma perché che ha detto capito ma hai capito come avanzate questo ma esce pure che cazzo cazzo di rischi diavara mare cazzo cazzo la fatta nata popera 4 3 però ma picciata vabbiamo piantino contro pete c'è il vantaggio abbiamo contro pete capito la detta del istra capite niente ma deve riuscire prendi il giallo devi uscire cazzo mannaggia cazzo mannaggia cazzo sturicchione in merda e taglia vento ma perché mi ha pensato la mano è un gol di scienza è un gol strepitoso 3 a 2 viola incredibile la Fiorentina avanti al minuto 82 beh non so se più bene la profusione di Zardy è un assist di Bernanteschi perché il assist di Bernanteschi è preciso davanti davanti a Zardy poi però Zardy fa un gol spettacolare di prima al volo di piatto sul primo palo veramente esecuzione perfetta dopo un assist perfetto e adesso la coltina è avanti a 7 l'ho metta a chissà la cazzo con un'auto va per spalla l'ho metta a fare poi dietro oh rigore rigore calmi 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 ce l'ha cucito se mi piace di bossa il punto è importante vi prego il punto è importante vediamo 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 non ci sono dubbi assolutamente nessun dubbio rivediamo da qui amore riposo riusciti a evitare la sconfitta rosa pronti ma pazzo sul dischetto piantieri ma che nasce c'è tutta è santa no no non voglio nessuno no no non voglio nessuno ma dove no piantieri contro Tata Luciano minuto 94 4 questo è il momento quante gabierini va con l'ancione aaaaaa 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 calmi come c'è della salare ti diamo riuscica nell'angolo eh meritano vai carlato stiamo a mano nonchia quasi sbagliavo no no si sbagliavo penso che se è retta solo mettenze la piastola oh vai direi tu col pancino no mettenze la tirava io ma pure signora me la tirava merkenzo per me mi scuso con gabbiatini però mamma mia finisceranno così finisceranno con di gabbiatini l'avreste mai detto oh io l'ho detto l'ho detto nel video in cui abbiamo comprato pavoletti se sentivo la perentina ti facciamo una statua e non ti vediamo tre altri una partita stradominata ma ci stanno pareggia pareggia ci sta alla fine alla roma teologicamente 23 a 1 vecchia un anno prossimo ragazzi siamo a meno tre siamo a meno tre ci può stare un saluto a manolo saluto a Roberto Pisa un nostro fan che ci segue sempre con affetto quindi noi ci ricordo un prossimo video all'anno prossimo bella bella che non moriamo mai vai mai 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 bye